La card che abbiamo voluto chiamare non a caso Pesaro Capitale, che sostituisce le altre convenzioni e gli altri strumenti, ma diventa uno strumento più importante non solo per la città di Pesaro ma per tutto il territorio provinciale, perché innanzitutto va ad armonizzare quella che è l'offerta della rete museale cittadina, una card che avrà un costo di partenza di 12 euro annui ma con tutta una serie di riduzioni fino a 7 o 5 per le varie categorie normalmente previste dalle riduzioni, quindi un prezzo veramente poco più che simbolico per la durata di un anno, che riguarderà tutta la rete museale cittadina pesarese a disclusione della sonosfera che avrà una sua abilitazione specifica ma sempre in linea, soprattutto avrà la possibilità di essere raccordata come già sta avvenendo con l'offerta museale degli altri 50 comuni della provincia collegati a Pesaro Capitale Italiana della Cultura, quindi capiamo che è uno strumento importantissimo per il 2024 ma che può dare seguito anche a collaborazioni strutturali anche per gli anni a venire. Quindi mano a mano che i comuni si stanno in realtà tutti convenzionando con il comune di Pesaro per lo svolgimento della capitale, le proprie strutture potranno, se vorranno, essere collegate a questo unico titolo d'ingresso. Su Pesaro invece l'occasione di oggi è anche importante per comunicare l'accordo con l'Arcidiocesi di Pesaro Urbino per la gestione, diciamo, sempre attraverso la stessa card che vale da biglietto e titolo d'ingresso, sia del Museo Diocesano che della richiestissima chiesa del nome di Dio che sta facendo anche numeri importanti, che è un'esperienza artistica che di per sé, come si dice, vale il viaggio e che quindi, grazie anche allo sforzo congiunto di Arcidiocesi come di Pesaro, rientra in un'unica offerta anche di bigliettazione e di prenotazione. Allo stesso tempo, attraverso la card diventa più facile anche la richiesta on demand dell'apertura dei musei, anche in orari, diciamo, consoli, ma normalmente di chiusura, o anche per gruppi specifici, diventa, diciamo, uno strumento più agile per arrivare a questo obiettivo. La card si può acquistare fisicamente nella rete museale, ma allo stesso modo può essere anche richiesta online, ricordo, ha la durata di un anno naturalmente rinnovabile.